Le esplosioni dei bombardamenti israeliani risuonano nel cielo della striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore sono stati sei palestinesi uccisi dall'attacco di Israele, mentre un uomo israeliano è morto dopo essere stato colpito da uno dei circa 400 razzi lanciati da Hamas. La zona di confine tra Gaza e Israele è così diventata nuovamente un'area di guerra. Lo scontro non era mai arrivato a questi livelli dal 2014 e ora si teme una riesplosione del conflitto. Gli israeliani hanno colpito 150 obiettivi palestinesi, uno di questi era la sede della TV di Hamas al-Aqsa nella striscia di Gaza che è stata distrutta dopo una serie di colpi di avvertimento. Sulle strade di Israele sono state avvistate lunghe carovane di mezzi blindati inviati per rafforzare la frontiera con Gaza.